Salve a tutti i friends del vostro supercurrys! Tadà! Ragazzi, si torna su Resident Evil Village, primo video con le nostre curve Pulse 3D e posso dire che è veramente inquietante giocare a questo gioco con queste cuffie perché praticamente fa sentire tutto quello che sono i rumori, i rumorini, anche le cose che avete dietro le spalle e mi fa spaventare. Comunque, sono tornati qua perché praticamente qua ragazzi prima per fare il test abbiamo trovato un porsiello, anche se ci sono sti cacacacchi qua però, cioè li sento proprio come se fossero veramente qua dietro di me è spaventoso, i cazzi di cuffie sono mostruose mazziamo il porsiello Così? Ragazzi, andiamo a portare la carne al suo simile E schiatta, porca zio Ne schiattalo, porcia Anche perché sto pure il pozzo là Ne te pare Porca zio, aglio, pazzesco Che abbiamo apiato Non si sa Fuggito Fuggimento violento Minchia raga Subito è arrivato il fenomeno Eh no, ma queste cuffie, l'audio è pessimo Sì, sì Ma a me mi fa piacere che voi siete tutti così conv... Tutti Parlo di quelli che hanno un po' di coglione Che siete così convinti L'audio è pessimo Ho visto le recensioni di tutti i maggiori siti Inerenti ai videogiochi E tutti hanno professato un cuffie eccezionali dal punto di vista dell'audio Ma cazzo, guardate là che ci sta Però poi arriva Ciccio Pasticcio Eh no, però l'audio fa schifo Posso assicurare che forse il microfono non sarà il top Ma l'audio è veramente buono Ta-da! Eccoci qua Ciao, frats Ah, ti piace a mangiare? Transazione approvata Oh, cazzo, ro Abbiamo finito tutte le monete Ho qui delle novità proprio per te, signor Winters Ah, porca troia, e mo? E non c'è più i colpi Ma sei un coglionazzo, lo sai E mo come facciamo? Te sarò ammagnate, servono le cose di valore Porcello Allora, dai, ritorniamo dove stava Oh animal Andiamo a vedere un po' qua Allora, qua sotto Allora, stanno le galline Che non ci servono Di qua dobbiamo andare Minchiera, c'è un po' di roba qua Mo speriamo di trovare tutto Ah, però possiamo creare le munizioni Andiamo, piccoli miei Io lo sto a favore di notte Sto video Vediamo che sono folle Qua siamo entrati prima? Sì Sì, siamo entrati qua Allora, ragazzi, si sente tutto E che ci sta qua? Ci sta nucazze, niente Forse già l'abbiamo preso Ah, l'urima del... Vabbè ragazzi, qua non vedo una cippola Che dobbiamo fare? Ci sta nucazze Usciamo Ah, vai Il mulino Allora, andiamo sotto, va Ma posso andare dalle galline qua Sì K K K K K K K Ma dov'è stungere le galline, oh E come si fa all'andata di qua? Queste bastarde di galline Eh, oh Vi tsuneste una cippa È se non si riescono a prendere pallina oh eccola lì almeno ma che è questo cioè tu mi devi far credere che io devo no dai non diciamo le cazzate che vice volete giocare ragazzi lo mette il grimaldello a la ruota no ma va bene tornerò e ci sta qua non cazzo di niente e ho capito come devo far andare di là domande molto pertinente come è stata fa non si sa qua non si vede una cippa allora qua siamo venuti già allora ci ritroviamo in questo bordello si beh qua non c'ho modo per non cazzo di niente non cazzo di niente non cazzo di niente funzionano era giusta l'intuizione molto bene sì ma sostanzialmente stiamo subito lasciando il villaggio ma no merda però la minchia dobbiamo andare qua abba tanto qua l'abbiamo sbloccato non vede un po che bordello qua sarò là ma apposta rampichiamoci un mulinone a ventone o che bello vieni qua che c'ho voglia di salsicce oggi vieni qua no povola ancora è scritto non siamo posti a spregare la pistola no cazzo di merda e allora sprecheremo la pistola dammi la carne no porco zio e cazzo si tocca a fa ma questo è po' uscita allora che ci sta qua quindi abbiamo uscita di là una bella controllata cazzo di palle vabbè c'è una palla in giro che dobbiamo trovare questo che segno è laboratorio vabbè ma che direi a sto bondi andrò ma oh cazzo no non salva nulla ascensore del lago artificiale oh cazzo si va sotto quindi qua che ci sta di qua un po' di animale raro un purcella eh va bene io direi di qua altro penso non ci sia da sbrattare da sbrattare no e allora ragazzi andiamo sotto nelle viscere questo luogo zozzo gangarinito oi 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 oh capite ci sta qua ci sta un cazzo o scendere sotto tira la leva guarda la leva e ricarica la pistola e ricarica la pistola Ethan Manolesta guarda andando avanti stiamo a calare oh guarda stiamo andando in altra parte del mondo in Australia sempre tutto bell'illuminato qua devo dire molto bene e vai ti pareva facile sembra tutto molto bello allora a vedere che zazzeria non ci vuoi non ci vuoi non ci vuoi se se sarà qua i che e oioioi qual è ci sta eccoci no no e che sta roba questa lì tappeti persiani oh yeah cazzo che bello chi è quello lì? piglia e porta a casa e vai mi schifo orco zio inizia a non vomitare stronto ma è sua figlia hai qualcosa al contrario che significa la bimba speciale di miranda? madre miranda rifuole sua figlia basta stronzate aspetta aspetta ti prego ti prego se me la rubi gli altri rideranno di me ma se sarò più bravo di loro fermo un attimo solo ti prego oh cazzo sta bersuccia sei stupido e parli troppo ti ho fregato ho bloccato l'uscita questo è il mio territorio e io non ti farò scappare di marda piccolo sparkura ma dove devo andare? non si capisce sto cazzo di burdella ma dove devo andare? non si capisce come esco da qui? no di qua non va bene allora andiamo di qua minchio sono uscito veramente mamma tutto sto casino qua e vabbè c'è chi dice no e c'è chi dice sì quanzi vuoi? mi aspettavo molto peggio ragazzi ma qua c'è una canova che io farei molto meno di prendere insomma ma via la cano vabbè vai serve una chiave ma chi malata ragazzi? nooo ooo quando era finita lascia la chiave nella barca nella capanna della miniera anzi è morto niente più pesca per un po' la sua morte è stata è stato in cesta di orato con un pesce gigante con tutta la barca la chiave nella della barca e nella capanna allora sta qua allora sta qua porca dieva però è entrato dobbiamo tornare indietro qua non c'è modo di passare in nessun modo andiamo a rivedere di qua se c'è qualcosa possiamo fare perché sennò vedi che qua stanno le scale bene saliamo che è questa munizione allora qua e dove stavamo? e non ci andiamo siamo diretti scendiamo oh cazzo stiamo cazzo stiamo ma va a cazzo stiamo mezzo di merda infamazzi ma non ci siamo fermati esploriamo 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 questo luogo l'ercio oh cazzo oh cazzo che cazzo ci faccio con la cazzo con la cazzo con la cazzo eh sì abbiate a voi ciao grazie della bella serata ci vediamo prossimamente no cazzo no cazzo ho sbagliato strada oh cazzo corri corri sali porco di lord minchia dove cazzo dove andò ma non ha sabato voglio orco di lord morca ma ti rendi conto cazzo il bordello maccia sabato chi è chi è no cazzo non bene passiamo sotto ciao frate mangia bene ho pure portacchiave andiamo eh dove stiamo andando di bella la sta il buco ma voglio andare prima di qua ma qua ci va andare no anche qua minchia ma bella sì va bene va bene non so per farci qua abbiamo andato sì ma dove stiamo andando porca di che cosa orco zio anche qua si va andando so cazzo voglio mamma mia mamma mia a molto pare che qua ci stanno tutti i cincioni ma che diavolo un laboratorio di ricerca con computer dell'attaccia c'è di qui levate di dasso stai giù cazzo ital beh mi sorprende che tu sia arrivato fin qui non vorrei ti succedesse qualcosa proprio ora certo chris come no hai ucciso mia ammazza anche me e finisci il lavoro ehi capo rilevo dei movimenti preoccupanti qua fuori meglio andarsene che movimenti di che origine sconosciuta ma siamo in questo posto da troppo tempo e miranda lo saprà ehi hai detto miranda che c'entrate con lei lascia perdere etan è al di fuori della tua portata vola Eva perda sta indietro l'uscita è sotto acqua sei finito non ho tempo da perdere che voglia miranda sta già preparando la cerimonia miranda ha mandato te per fermarmi sei patetico oh che crudità oh na mia non è giusta dovrei esserci io con lei non tu di che stai parlando che c'è che c'è che c'è che c'è non riesco più ah ratererbi oh oh tia oh madre oh velke oh velke oh 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 cazzo e ma e ma che dobbiamo fare vai ma cazzo facciamo a questa noi curritan anna mia a me lo chiedi siamo che dove fanno tornare indietro no quanto poi manuale clinica di morò poi cazzo voglio cioè sento dei rumori che non mi piacciono per niente a me cazzo vabbè cazzo marco zia è da qua che sono arrivato sì, allora abbiamo fatto tutto il giro eccolo qui ciao a tutte le parti ma raga è con il nostro amicone qua dico che finisce la nostra puntata, ci vediamo nella prossima grazie a tutti grazie a tutti